Domenico Sorrentino per Daily Basket, Lega 2 qui con Gino Quasso a Fiorogino. Siamo arrivati ai play-off, una partita già questa di play-off, quella di Barcellona. Una vittoria assoluta. Adesso incontreremo Pistoia. Due parole. Assolutamente sì, combattutissimo. Complimenti a Barcellona, una squadra formidabile. E fortunatamente non la incontreremo perché abbiamo finito i settimi. Ingrassiti che andremo a Pistoia, dove crede che ce la giocheremo. La felicità è enorme. È stato un miracolo perché era una possibilità su cento. Noi ci siamo riusciti perché ci abbiamo creduto dal primo momento ed è il giusto riconoscimento per tutti quanti. Società, giocatori, staff, per tutti quanti. Grazie.